Musica Ben ritrovati con l'informazione, apriamo il nostro giornale con la cronaca. Scendono i dati dei contagi Covid in Veneto, ma non ancora la curva dei decessi. Che mostra un dato pesanto, 93 vittime in più rispetto a ieri. I nuovi positivi sono 746 per un totale di 306.952 infetti dall'inizio dell'epidemia. Il numero dei morti tra ospedali e case di riposo sale invece a 8.695. Che gli indici siano in discesa nel bollettino della regione lo segnala anche il report dei ricoveri ospedalieri. Nei reparti non critici sono 2230 i posti letti occupati da malati di Covid con meno 13 rispetto a ieri. Mentre nelle terapie intensive si trovano 297 persone con un calo di 16 unità rispetto alle ultime 24 ore. deflette ulteriormente il dato dei soggetti attualmente positivi con meno 2732. Ci sarà un provvedimento domani da parte del direttore Flo che prevede la riapertura delle attività sospese finora e che sono state sospese proprio quando l'emergenza era nel pieno e quindi avevamo bisogno di sospendere alcune attività e di convertire anche il personale in attività nelle parti appunto ad alta intensità. E quindi dal primo di febbraio riprendono le attività di specialistica amputoriale. Ricordiamo che noi avevamo sospeso le prestazioni a 30 a 60 giorni mentre le prestazioni a 24 ore 10 giorni non sono mai state sospese, ossia quelle più urgenti. E in più riprenderà anche la libera professione con l'attività di Intromenia. Parliamo ancora di Covid. Secondo il recente rapporto INAIL appena presentato i contagi da coronavirus sul luogo del lavoro a livello nazionale hanno ormai superato la soglia dei 131 mila casi. In questo scenario il Veneto rappresenta il 9,7% sul totale nazionale, pali a 12.735 lavoratori contagiati. Di questi 9.388 sono donne, 73,7% mentre 3.347, 26,3% sono uomini. A Padova e in provincia si registrano 1.759 casi di cui 1.274 sono donne e 485 invece sono uomini che descrivono quindi un'incidenza del 13,8% sul totale regionale. Una lettura del report e del suo trend crescente la forniscono gli esperti legali che osservano come nel rapporto azienda e lavoratore in materia di Covid vi sia un aspetto di criticità nel rapporto con le ATS, l'Agenzia di tutela della salute. Il rischio così facendo è che le aziende lasciano operativi interi reparti e uffici con il pericolo di diffusione del virus. Non soltanto tra i dipendenti che sono stati a contatto diretto con il soggetto contagiato ma anche tra i loro familiari e i conoscenti. La giunta di Padova ha approvato una delibera urgente con la quale stanzia 427.780 euro IVA compresa per l'affitto e le spese accessorie quali riscaldamento e raffrescamento utenze elettriche, telematiche e parcheggi per il periodo che va dal 1 di febbraio al 31 luglio del padiglione 6 della fiera di Padova per metterlo poi a disposizione dell'Ulss 6 come CVP, cioè centro di vaccinazione della popolazione. Padova Hall, cioè la fiera di Padova, sta già allestendo gli spazi in modo che il centro vaccinazione sia pronto per il 1 di febbraio. Da parte sua l'azienda dell'Ulss 6 si farà carico dei servizi di guardiani, di pulizia e di sanificazione nonché di raccolta e smaltimento dei rifiuti. Ricordiamo che il padiglione 6 della fiera risponde perfettamente a questi requisiti ed è una soluzione ottimale per la campagna vaccinale che probabilmente durerà alcuni mesi. Andiamo a Verona. La cronaca. Un cane che scappa a un vigile del fuoco che vedendolo in pericolo al rientro da un intervento si ferma e lo blocca. Un uomo che arriva dichiara che l'animale è suo ma quando il vigile del fuoco gli chiede i documenti, questo afferra in maniera repentina l'improvvisato guinzaglio e scappa con l'animale. I vigili del fuoco allertano così il 113. Il collega a cui è stato strappato il cane insegue l'uomo per una ventina di minuti. Le volanti si mettono all'inseguimento dell'uomo ma di lui si perdono le tracce in zona selunte a Borgonovo, appunto a Verona. L'animale girovago aveva già il collare che è pettorina ma non il guinzaglio. Questo è il racconto del vigile del fuoco che prosegue. Dopo qualche attimo è arrivato un uomo, sembrava un magrebino e mi ha detto che il cane era suo e lo rivoleva. Gli ho risposto di fornirmi i suoi documenti ma lui in tutta risposta ha afferrato il guinzaglio ed è scappato via con il cane. I vigili del fuoco sono intervenuti in via Monteverico a Marcon in provincia di Venezia nella piazzale di un'azienda per l'incendio di un furgone che ha anche coinvolto una cabina Enel. I pompieri arrivati da Mestre con un'autopompa, un'autobotte e il carro NBCR e nonché nove operatori hanno spento il rogo del furgone e della cabina evitando il coinvolgimento delle strutture vicine. Le cause dell'incendio, di cui non si esclude il dolo, sono al bagno dei vigili del fuoco e dei carabinieri. Le operazioni di soccorso sono terminate poco prima della mezzanotte. Cordoglio per la scomparsa del senatore Marco Toniolli, docente merito della Università degli Studi di Padova proprio dal presidente della provincia di Padova, Fabio Bui. Il presidente Bui lo ha indicato come una figura chiave per lo straordinario senso delle istituzioni che ha improntato tutta la sua vita umana e politica, per il suo grande impegno come cattedratico e per la forza della ragione che opponeva sempre anche alle opposizioni più agguerrite. Festeggia quest'anno i due secoli di attività. La distilleria Luxardo, fondata nel 1821 a Zara da Giacomo Luxardo, iniziò la sua avventura producendo il Maraschino, un liquore conosciuto nella città d'Almata sin dal Medioevo col nome di Rosolio di Maraschino. L'esilio poi imposto da Tito nel 1947, la famiglia si trasferì a Torreglia, ai piedi di Colli Eugani, dove Giorgio, unico dei fratelli Superstiti, costruì lo stabilimento come quello che aveva lasciato sulle coste d'Almate e distrutto dai bombardamenti. Oggi la Luxardo lavora sulle sue Marasch, raggiungendo un totale di produzione di 6 milioni di bottiglie all'anno. La sede si sviluppa su 12 mila metri quadrati e conta una cinquantina di dipendenti. Alla vigilia del giorno della memoria, di cui si ricorda la strage della Shoah, la Digos di Padova ha portato a termine una operazione contro la propaganda antisemita. Un 26enne e un 27enne padovani sono stati indagati per danneggiamento aggravato dall'odio razziale per numerose scritte apparse sui muri della città lo scorso autunno. La segnalazione era giunta in procura della Digos che tra ottobre e novembre aveva redatto una dettagliata informativa sulle scritte ben visibili in città come croci celtiche, stelle di David, comunisti a morte e 1488 che la simbologia nazista accosta frasi antisemite al richiamo di Hey Hiltrer oltre a numerose invettive contro il centro sociale Pedro. E quando il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa arrivarono a Auschwitz e abatterono i cancelli di quell'inferno svelarono al mondo intero la più atroce storia di orrore che l'umanità avesse mai conosciuto, cioè la Shoah. Domani, per ricordare quel drammatico momento storico, si celebrerà in tutta Italia il giorno della memoria per riflettere sull'immensa tragedia che ha colpito milioni di persone. Alcune di loro vivevano e lavoravano anche nella provincia di Padova. Sono queste le parole del discorso per la commemorazione della giornata della memoria da parte del presidente della provincia Fabio Bui. Un riferimento è stato fatto anche a Villa Venier, a Vaux, a Vaux Euganeo. Oggi trasformata in un percorso museale. Dal dicembre del 1943 a luglio del 1944 fu utilizzata proprio come campo di concentramento. Vediamo. Cari padovani e cari padovani, quando il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche dell'Armata Rossa entrarono ad Auschwitz e abbatterono i cancelli di quell'orrore, svelarono al mondo intero il più atroce orrore che la storia dell'umanità abbia mai conosciuto, la Shoah. Oggi, per ricordare quel drammatico periodo storico, si celebra in tutta Italia il giorno della memoria, per riflettere sull'immensa tragedia che ha colpito milioni di persone. Alcune di loro vivevano e lavoravano proprio nella nostra provincia. E' bene ricordare questo, per calare questa riflessione che è rivolta soprattutto ai giovani nella nostra realtà. Perché le persecuzioni, le leggi razziali, i campi di sterminio non vengano percepiti come qualcosa che è successo e è accaduto solo altrove. Anche nella nostra provincia sono successe queste cose. Questi eventi non hanno risparmiato il nostro territorio. Villa Venier a Vaux, oggi trasformata in un percorso museale, ne è la testimonianza, perché dal dicembre del 43 a luglio del 1944 fu utilizzata proprio come campo di concentramento. Vi sono raccolte testimonianze di persone che abitavano a Padova, rimaste vittime di quell'immensa tragedia. Voci che vanno tramandate perché l'oblio rende più vulnerabili le giovani generazioni. La memoria è importante, soprattutto per aiutare i giovani a capire e a proiettarsi verso un futuro migliore, con responsabilità e consapevolezza. È un messaggio che dobbiamo lanciare con fiducia, perché i ragazzi della nostra provincia, come i loro coetani del resto d'Italia e dell'Europa intera, siano animati da sentimenti di pace, di amicizia, di tolleranza, di rispetto. Celebrando questa giornata portiamo un contributo alla lotta contro ogni forma di razzismo, di violenza e di sopraffazione. Il nostro compito è quello di non dimenticare, di continuare a testimoniare le atrocità del periodo forse più buio della storia dell'umanità, perché diventi monito per le nuove generazioni chiamate a costruire un futuro senza più aberrazioni, basato sulla coscienza sociale e collettiva, indirizzata solo al bene comune. Questo credo sia il modo più degno per onorare la giornata della memoria. E' con questo messaggio di fiducia che voglio rendere omaggio a tutte le vittime dei campi di sterminio e anche a tutti coloro che, come recita la legge istitutiva del giorno della memoria, in campi e schieramenti diversi si sono opposti al progetto di sterminio e a rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. Per fare davvero i conti con la Shoah, allora non dobbiamo più rivolgere lo sguardo soltanto al passato, perché il virus della discriminazione, dell'odio, della soprafazione, del razzismo non è confinato in un'isolata dimensione storica, ma attiene estetramente ai comportamenti anche odierni dell'uomo. E debellarlo riguarda il destino stesso, il destino stesso del genere umano. Questo è il nostro impegno in un'occasione di questa giornata della memoria. Sono iniziati oggi e dureranno fino a venerdì i lavori per la sostituzione di alcuni tubi del gas che attraversano Via 8 Febbraio in centro a Padova. Il cantiere in centro si è reso necessario per il potenziamento e la sostituzione della condotta del gas in città. Torna a far parlare di sé la street artist Carolina Blanco, argentina di nascita, padovana di adozione. Questa giovane artista si sta occupando, in collaborazione con Arcella Town, di far prendere vita al suo racconto il pianeta giallo attraverso i suoi stessi murales. Per permettere a chi lo desidererà di leggere la storia completa, verrà realizzata una mappa che guiderà lo spettatore alla ricerca dei disegni su muro di Carolina. I lavori sono iniziati proprio oggi in Via Jacopo Montagnana. Vediamo. Siamo qui con Carolina che sta eseguendo un murales all'Arcella, proprio in esecuzione. Cosa stai facendo? Ciao! Sto facendo il mio pianeta giallo, che è un racconto che ho scritto. Con l'associazione Le Milioni Arcella abbiamo pensato di sviluppare questo progetto intanto a cielo aperto. Cioè ogni capitolo all'Arcella, dopodiché faremo una mappa dove le persone, i curiosi, possono leggere il libro guidati dalla mappa. È un racconto che ho realizzato, è ambientato qui all'Arcella, stazione a Padova. La protagonista è Marta, una clochard artista che vive in una stazione e vende i suoi lavori per sopravvivere. È un ragazzo, un pendolare, che si innamora follemente di lei. Per cui è una storia di follia, di povertà, ma soprattutto di grande speranza grazie al filo conduttore che è l'amore. Quando hai iniziato a farlo? Il murales? È iniziato ieri e ci avrò ancora per oggi e anche per domani, dove adesso ho fatto qui lei. E dall'altra parte ci sarà il ritratto di lui. E il primo capitolo scriverò, che è il primo capitolo, si chiama In stazione a Padova. Allora, qui sarà il secondo intervento, quel secondo personaggio. E abbiamo pensato appunto a questo muro, con i proprietari, appunto anche con l'Emilia Un'Arcella, perché anche di riqualificare le svastiche che purtroppo ci sono non solo all'Arcella, ma in tutte le città. E per cui per me è un onore anche contribuire in questo senso. Tra domani, in teoria, tutto questo non ci sarà più. Arriva dal primo giugno all'Arcella Est il servizio di porta a porta per la raccolta dei rifiuti, che per motivi legati alla pandemia era stato spostato rispetto alla data prevista per il 2020. Convolgerà circa 19.000 residenti e costituirà una svolta nel servizio che vedrà coinvolti 142.000 padovani. Ogni famiglia o condominio avrà a disposizione 5 contenitori che saranno consegnati ad ogni nucleo familiare in sostituzione dei contenitori stradali che verranno eliminati per lasciare spazio alla nuova iniziativa del Comune di Padova. Saranno poi le scuole del quartiere che daranno ovviamente il là alle famiglie. Si parte finalmente un anno dopo, primo giugno 2021, verranno raggiunti anche altri 19.000 padovani, 10.300 utenze. Con questo step si superano i 142.000 padovani che fanno la raccolta differenziata con il porta a porta. È uno step importantissimo, come potete immaginare, sia perché era molto atteso, perché si va a chiudere il quartiere Arcella, sia perché è il quartiere più popoloso della città. E anche al centro l'attenzione è per fortuna anche positiva, infatti in quest'anno in cui ci siamo dovuti fermare abbiamo potuto raccogliere i risultati della raccolta differenziata all'Arcella che sono arrivati quasi al 74%, quindi veramente una media molto alta. Sì, abbiamo raccolto suggerimenti a partire dalle criticità di un'area fortemente urbanizzata e quindi la principale novità è che raddoppiamo le frequenze di passaggio per le frazioni che occupano un po' più spazio, possiamo dircelo, che sono la plastica, la carta e il vetro, quindi non più quindicinale ma settimanale con la possibilità, quindi con la conseguenza immediata di ridurre anche il numero di cassonetti, soprattutto per i condomini. Altra cosa è che rivoluzioniamo un po' insieme a Cegas, APS e AMGA la comunicazione, perché sarà una comunicazione ovviamente molto più improntata a un contatto anche via web e digitale, con un WhatsApp a disposizione, delle facca a disposizione, ma a che accompagnano tutto lo starter kit che conosciamo, quindi dai prossimi giorni si parte con i condomini e poi arrivando a tutte le utenze e i condomini già li stiamo sentendo. Credo che sia un risultato importante perché con questa amministrazione arriviamo a 55.000 persone servite con il porta a porta, in più oltre a quelle precedenti e soprattutto si stanno vedendo adesso i risultati a livello cittadino dell'aumento della raccolta differenziata, quindi della qualità di quello che conferiamo nell'ottica di economia circolare che cerchiamo di implementare e valorizzare. Parliamo di Padova. Padova avrà due palazzetti dello sport tra pochi mesi, si pensa tra otto mesi al massimo. Lo ha dichiarato l'assessore allo sport Diego Bonavina alla stampa questa mattina. Un palazzetto dedicato al basket e un palazzetto polifunzionale da 1.100 posti ognuno. Il CONI ha dato conferma all'avvio dei lavori in concerto con il comune di Padova. I palazzetti saranno dotati di spogliatoi e posti riservati anche alla stampa. Questo in risposta ad alcune critiche sui lavori in corso espresse da Ubaldo Lonardi. Inoltre l'assessorato allo sport attraverso l'assessore annuncia che verranno sospesi i pagamenti cristallizzando la situazione fin tanto che le palestre convenzionate non riprenderanno la loro attività regolare. Abbiamo già fatto tantissime cose da questo punto di vista ancora dopo il primo lockdown eravamo intervenuti. Adesso mi trovo nella condizione di andare incontro ai gestori delle palestre comunali sapendo benissimo che ci sono anche tutti i gestori delle palestre private che purtroppo non potranno beneficiare di questa idea che oggi porterò all'attenzione della giunta comunale e quindi ho ritenuto di sospendere tutti i pagamenti in corso da parte di gestori di impianti sportivi comunali cristallizzo la situazione fino a quando la situazione non migliorerà e fino a quando le associazioni sportive non riprenderanno a introvitare qualcosa con l'attività che ci auguriamo possa riprendere il prima possibile. Bene, è tutto per questa nostra edizione del giornale. Noi ci risentiamo come sempre alle prossime edizioni. Vi ricordo come sempre il nostro sito www.cafettv24.it per rimanere aggiornati anche attraverso i nostri social. Grazie. 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 Grazie.